music and art festival, tre mesi frizzanti nell'estate ponese, un nuovo format, un nuovo brand che raggruppa tutti gli eventi musicali ed artistici che si svolgeranno tra giugno e settembre nel territorio ponese, grandi nomi, grandi nomi della musica, grandi nomi dello spettacolo che verranno divulgati a livello nazionale per mondiale di comunicazione. L'importante è il quale investiamo più di 100.000 euro per arrivare il più lontano possibile per poter focalizzare l'attenzione sul nostro territorio non solo sui nomi, non solo sui nomi, ma anche sulle grandi capacità organizzative delle associazioni culturali ed artistiche che sviluppano questi grandi eventi nel territorio ponese.